La mangrovia è un progetto Che è nato da un gruppo di amici Tanti rami, tante rallici nell'acqua Tra l'acqua e il mare, del mare e la terra Abbiamo scelta come metafora per la compagnia teatrale Quando è nato tutto Non saprei dirlo perché Totò una volta ha fatto un incontro Si è messo a spiegare come era nato tutto Ma io avevo scollegato il cielo La mangrovia è nata dall'idea di qualche giovane Qualche meno giovane diciamo Di fare un qualcosa in più all'interno dell'ambito PIME La mangrovia è nata dal desiderio di stare insieme Non per il piacere di stare solo insieme Ma di creare anche qualcosa da poter far vedere ad altri È un po' il frutto della nostra amicizia Giusto Ognuno aveva questo desiderio Ognuno aveva proprio questo desiderio a fare di mettere in piedi questa cosa In realtà noi tre c'è stato un giorno che ci siamo trovati a parlare A vedere perché non facciamo questa cosa qua Ma parallelamente c'erano altre persone che pensavano questa cosa qua È stato il momento L'incontro L'incontro da che è generata E quindi ci siamo messi in testa di fare questa compagnia teatrale Che ha lo scopo di portare fuori Quello che noi viviamo all'interno del PIME Cioè un po' le esperienze dei vari cammini Delle giornate insieme Cercando di coinvolgere anche gente Che non faceva parte del nostro modo di essere Di pensare Gente trascinata Gente portata dall'entusiasmo Gente che passava di lì per caso E' stata appare la malata L'idea è proprio questa Dell'accogliere chiunque voglia venire A conoscere un mondo un po' diverso Quello che è il PIME quindi Lasciati guidare come tu e al cieco Se si perde noi lo riportiamo indietro Eccola tra te le vesti C'è una bancarella Vedo il tessitore Finalmente proprio quella Quanto insieme andiamo Il vestio sarto già ci aspetta Affidati al mercato il risultato È assicurato Yes! Hai visto? L'ho preso all'operta dell'IKEA Grazie a tutti! Buongiorno! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti.